dunque ci troviamo nella chiesa ex chiesa sant'arcangelo in fano in corso matteotti si svolgerà dal 22 luglio al 12 agosto appunto 2018 una esposizione artistica con un connubio il connubio tra perillo mario e giancarlo bugarin perillo mario pittore e giancarlo bugarin scultore per ciò che riguarda il connubio appunto con questo mio amico artista giancarlo bugarin abbiamo deciso di intitolare questa manifestazione appunto attinenze romantiche non perché c'è un reale filo conduttore che lega in modo tecnico i nostri lavori ma perché esiste una stessa sentita esigenza nel guardare a un mondo che ci appaga c'è un mondo piuttosto piuttosto classico ecco allora ci sono 14 opere che riguardano le sculture di giancarlo bugarin e circa poco meno di 40 opere 40 opere pittoriche invito tutti coloro che abbiano tempo domenica alle 18 e 30 domenica 22 ad intervenire a questa manifestazione che avrà anche come ospiti un musicista chitarra acustica alessandro buccioletti e i relatori saranno gabriele bavona e valentina valentina radi grazie a tutti grazie a tutti